Questo convegno che ricorre nel ventennale della morte di Zolla, un autore che probabilmente pochi ormai conoscono, ma che io ho conosciuto molto bene, io ho cercato di descrivere l'uomo Zolla, oltre che lo scrittore, l'intellettuale, perché quella è una figura diciamo più nota, più pubblica, ma l'uomo Zolla, cioè come è nata la profondità della scrittura di Zolla, è nata da un lavoro interiore indefesso che lui ha fatto a partire da una malattia che è stata poi decisiva nella sua vita. Lui si è ammalato di tubercolosi una prima volta a sette anni, poi a 22 anni, e quindi attraverso quegli anni che sono così importanti per un ragazzo, per un giovane, lui ha vissuto il dolore, ha conosciuto il dolore. Un dolore che era al rischio di andarsene, perché non c'erano ancora gli antibiotici, non ci si poteva ancora curare di TBC. Ma attraverso lui è stato un uomo d'azione, se vogliamo, che ha lottato per sconfiggere la solitudine, la tristezza, la malattia. E quindi si è servito della TBC, che lo ha messo nel polmone, come si chiama, lo pneumotoracea all'ospedale di Torino, eccetera, si è servito di questo incidente per lavorare su se stesso e per cercare qual è il punto più profondo della propria interiorità. E questo è un concetto che appunto oggi è meno comprensibile di un tempo. Non c'entra la religione, non c'entra l'adesione a una fede, non c'entra nessun credo, ma il credere è un'energia che ci può portare in tutte le direzioni possibili. Quindi è una forma di energia aperta che lui ha utilizzato nella direzione della conoscenza. Cioè conoscere il più possibile del mondo in cui mi trovo a vivere, mi trovo ad abitare. Quindi con un senso anche di distacco rispetto al mondo. Lui non si è mai sentito identificato con una società, con un tempo storico. Si è trovato ad attraversare addirittura l'epoca fascista, perché è nato nel 1926, e però ha sempre visto le cose come se fosse uno spettatore e poi dopo spettatore un testimone dell'epoca in cui è vissuto cercando di visitare le epoche anteriori, senza confini. Occidente e Oriente per lui era l'unico mondo in cui sapersi muovere a partire dall'esperienza interiore. Quindi da questo punto di vista si può dire che è stato un mistico, che non è una parolaccia come si tende a pensare, ma letteralmente significa uno che ha fatto il silenzio dentro di sé. Perché mystes in greco significa il silenzioso. E quindi lui a partire da questo silenzio interiore che poi si è messo a scrivere, a studiare, a viaggiare, a insegnare, ed è stato quindi un uomo del tutto normale come chiunque altro. Però la specificità, la differenza stava in questo lavoro interiore che lui ha fatto su se stesso e che non ha a che fare con la psicanalisi, con un'indagine su una psiche che è proprio l'organo da curare. Perché noi siamo, voglio dire, il problema della psicologia del profondo con tutti i maestri che ha avuto è comunque una disciplina che fa assorbire tutte le energie nella, in quello che si chiama psiche. E lo spirito è considerato un fattore estraneo probabilmente anche come dire discutibile o della filosofia idealista o di una spiritualità confessionale come può essere la cristiana, l'islamica, la buddista, eccetera. No, lui ha sempre capito che la spiritualità è una dimensione sottile della consapevolezza che va sviluppata con i propri sforzi. Una volta conquistata questa consapevolezza persuasa, lui parlava di questo, la consapevolezza persuasa, tu non sei più schiavo della retorica mondana. E quindi il punto di riferimento automatico diciamo in questo paragone è con Carlo Michelstetter, cioè Michelstetter ha scritto la sua tesi di laurea la persuasione e la retorica fatta sulle fonti greche in cui lui ha divaricato i due concetti. Un conto è la persuasione, peizzo in greco, cioè noi dobbiamo tendere a persuaderci tenendoci a distanza dalla retorica che è tutta la falsificazione del mondo esterno. La psiche è il gradino inferiore alla zona della spiritualità che è una consapevolezza sottile e completa dell'essere nel mondo. Però se vogliamo andare all'etimologia anima viene da animos che vuol dire vento. Quindi è vento nel senso dell'atmosfera ed è ossigeno e respiro. E qui entriamo nella dimensione indiana per la quale lo spirito non è altro che la propria capacità di respirare. Quindi è una nozione che al contrario di quello che si pensa è molto fisicistica perché è il respiro quindi io perché respiro sono vivo e allora la spiritualità è la capacità di essere consapevoli dell'essere in vita respirando. Quindi non c'è niente di trascendentale. Noi siamo vittime delle tossine tecnologiche non perché la tecnologia sia un male ma perché viene usata soltanto per influenzare incantare soprattutto le generazioni che non hanno degli anticorpi con cui frenare questo eccesso di informazione di socialità che è imperversa. E quindi bisogna la tecnologia è un grande risultato dell'età postmoderna ma bisognerebbe usarla con discernimento cosa che veramente non accade. la civiltà greca è stata una civiltà completa quindi mentre per un verso noi vorremmo aprirci ad altre dimensioni quelle asiatiche quelle delle tradizioni buddiste taoiste eccetera basterebbe anche restare nel mondo greco e troveremmo dei miti e delle parole che hanno un profondo significato che già contengono il tutto che già contengono questa visione olistica che adesso è di moda come se fosse una scoperta di oggi invece olos intero totale esiste da quando esiste la parola in greco allora i miti che si contrappongono sui quali ha riflettuto Zolla è il mito di Orfeo cioè questo cantore che veniva dalla traccia non si sa bene se fosse un personaggio leggendario o no sta di fatto che la tradizione vuole che lui sapesse suonare il flauto al punto da incantare gli uccelli da e incantare tutte le persone che lo seguivano per essere ispirati dai suoni dalle risonanze dalle consonanze della sua della sua voce e della sua musica e quindi Orfeo è nel mondo greco il simbolo della pacificazione cioè non il simbolo lo strumento di una pacificazione che parte dal cuore e che poi diventa la una tranquillità una quiete dell'intero essere Prometeo è l'altro mito all'opposto diciamo di quello di Orfeo che incarna la forza l'aggressività il predominio la guerra e quindi diceva Zolla in un suo testo molto bello che risale al 1958 diceva l'Occidente è dominato da due miti a contrasto il mito orfico che va verso la quiete va verso la pacificazione e il mito prometeico la scelta che nella storia è stata fatta di Prometeo rispetto a Orfeo ci ha portato alla situazione di conflitto di cui noi siamo tutti vittime oggi quando ci si chiede che cos'è l'umano la dimensione umana a seconda delle culture si danno risposte diverse nel caso occidentale che è quello che ci ha formato l'umano è diventato il luogo di un'ampiezza di esperienze cioè l'umano include il disumano l'inumano e anche il sovrumano e però la coltivazione viene fatta soltanto dell'umano nel senso più deteriore del termine quindi aggressività appunto Prometeo quindi la scelta che è stata fatta che è un'ideologia vera e propria è optare per la forza optare per il conflitto e questo ha una sua verità nel senso che noi siamo esseri finiti noi siamo nati e moriremo e quindi è soltanto dentro il limite segnato dalla nascita e dalla morte che per essere per avere un'esperienza piena dell'essere stati in vita dovremmo essere raggiungere la quiete interiore avere l'esperienza dell'infinito quindi finito infinito mentre in matematica hanno trovato tutte le dimostrazioni dell'infinitudine della realtà una realtà cosmica a molte dimensioni si parla di n dimensioni nella fisica ecco questo è stato facile raggiungere l'esperienza dell'infinito nella matematica nella cosmologia nel progresso delle scienze ma non si pensa all'infinito come esperienza interiore quindi questo è una una diminuzione è un modo di amputare l'ampiezza della nostro essere umani Claude Lévi-Strauss è stato un grande etnologo antropologo che ha capito anche qual è la struttura formale delle la struttura formale delle civiltà delle culture e quindi ha anche studiato matematica voglio dire ha matematizzato i rapporti di parentela le regole dietetiche ha fatto un lavoro immenso di cui siamo di cui siamo molto grati se non che però è rimasta in lui l'idea che il progresso avviene attraverso la storia quindi indigeni cioè comunità umane separate isolate sono non appartengono alla classe dominante delle civiltà storiche e questo secondo me mi permetto di dire è stato un limite è stato un limite della sua visione antropologica cioè antropos uomo uomo è uomo e quindi se c'è un infinito nell'umano finito lo si trova tra gli indigeni o tra le persone più avanzate cioè voglio dire il criterio dell'avanzamento è soltanto di tipo tecnico tecnologico e quindi è chiaro che un indigeno dell'amazonia è una persona considerata primitiva perché per esempio se si ammala si cura attraverso la virtù delle piante noi no noi abbiamo bisogno di antibiotici abbiamo bisogno di protocolli clinici complicatissimi ma in realtà la probabilità di sopravvivere a malattie è la stessa sia tra gli indigeni che tra i civilizzati quindi la questione del progresso dipende che cosa intendiamo per progresso cioè un indigeno che sa cacciare sa arrampicarsi sugli alberi conosce le costellazioni sa orientarsi in una giungla è una persona sapiente quindi perché dobbiamo pensare che sia un rozzo solo perché non conosce quei derivati tecnici che fanno la nostra modernità una parola splendida della lingua proprio latina è sapienzia allora da dove viene viene da un verbo che vuol dire assaporare sapere quindi il sapiente in realtà qualcuno che ha la capacità la virtù di assaporare in modo profondo e totale le sue esperienze della vita quindi non è soltanto il sapore nel senso fisico ma sapore come punto di contatto tra la nostra interiorità e il mondo esterno e il mondo fisico esterno e i nostri sensi nello stesso tempo quindi noi abbiamo un'idea falsata della sapienza perché pensiamo che sia un accumulo di conoscenze in realtà è una capacità di crescere interiormente di sentire l'infinito dentro di noi ed è in questo consiste la sapienza un sapiente può essere un analfabeta assolutamente sì un uomo semplice ma il saper assaporare le energie della vita e la bellezza della vita quello rende qualcuno un sapiente è